Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla FIPLI, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandici e la Strassigna in direzione Livorno. Sul raccordo Bettolle-Perugia, traffico rallentato per un incidente avvenuto allo svincolo di Foiano della Chiana in direzione del raccordo Siena-Bettolle. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, da stanotte fino a martedì in orario 21.6 per i lavori della tramvia, restringimenti di carreggiata in Viale Belfiore tra via Benedetto Marcello e via Guido Monaco in direzione Porta al Prato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio!